Mentre è confermata la riattivazione del servizio mensa negli asili nido Santa Chiara e Paradiso, grazie all'assunzione del personale di cucina da parte della nuova ditta appaltatrice della refezione scolastica nel Brindisino, la Marcas, gli alunni delle scuole materne ed elementari dovranno attendere un'altra settimana. Per loro mensa sospesa e ipotesi pasti freddi, bocciata e peraltro mai ritenuta idonea dall'azienda sanitaria locale, pur essendo scaturita come decisione temporanea dal Comitato Mensa, è accettata dai genitori nell'ambito dell'incontro tenuto in comune con l'assessore alla pubblica istruzione Gioacchino Margherito nella scorsa settimana. L'amministrazione comunale informa con una nota stampa diramata dal sindaco Gonzales che da lunedì 19 gennaio il servizio Mensa con pasti caldi potrà riprendere regolarmente in tutte le scuole comunali. Saranno definiti quindi nei giorni restanti di questa settimana gli incontri utili e l'iter burocratico per il passaggio del testimone dalla ditta uscente, l'Ala Disa, e quella entrante, la Marcas. Entro oggi la nuova ditta si è impegnata a sottoscrivere un contratto con un centro cottura situato in provincia di Brindisi, da utilizzare sino a quando saranno completati i lavori per la realizzazione del centro cottura comunale in via Basento nel rione Perrino. Entro la giornata di mercoledì invece i responsabili della ditta di Bolzano incontreranno i delegati sindacali per ufficializzare il transito di tutto il personale dalla Ladisa alla Marcas. Fino a venerdì quindi i genitori avranno come unica soluzione quella di ritirare i propri figli da scuola e riportarli dopo pranzo per il rientro. Non è stato semplice, scrive il sindaco Gonzales nella nota stampa, affrontare e risolvere i tanti problemi emersi per il passaggio dalla ditta uscente alla ditta subentrante. Del resto è la prima volta che l'azienda che effettua un servizio così importante come quello della mensa scolastica si rifiuti di accettare una proroga in attesa del subentro effettivo della nuova ditta, determinando gravissimi disagi per le famiglie interessate. Tutto questo, non a caso, è stato posto all'attenzione del nostro ufficio regale per i provvedimenti conseguenti. Aggiungo comunque, conclude Gonzales, che trovo del tutto sconveniente leggere commenti di pediatri e nutrizionisti che pontificano su questioni determinate unicamente da una situazione di emergenza certamente non voluta dall'amministrazione comunale. Quando i genitori ce lo hanno chiesto, abbiamo aderito alla richiesta di pasti freddi per una settimana, ma è evidente che a fronte di tante polemiche preferiamo azzerare tutto e attendere lunedì prossimo.